Oggi sono andato al mercato e ho visto dei carciofi bellissimi. Ho detto che mi fanno prima col pesce e i carciofi. Ho preso una bella rana pescatrice, la sono sfidettata e ecco di qua. Un taccheretto di pasta fresca, un tartare di rana pescatrice, i carciofi in due cotture e sopra un po' d'arancio per sgrassare. Naturalmente da oggi ne ho provato tutti i giorni al menù.